Un viaggio introspettivo negli amari giorni del lockdown, una presa di coscienza favorita da un esperimento teatrale in cui gli spettatori divengono attori grazie a cuffiette e una voce guida. In tutto questo c'è la magia di Lapsus Urbano, il primo giorno possibile, spettacolo curato dal collettivo bolognese Kepler 452 per il progetto Clessidra, teatro dei luoghi del Teatro Le Forche, giunto alla settima edizione. Lo spettacolo, un'avventura di quattro giorni con chiusura nella serata di mercoledì 29 luglio presso la Rotonda del Lungomare, ha riscosso successo e curiosità. Abbiamo intervistato l'idiatrice e direttrice del progetto Erika Grillo che si avvalsa della regia di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio, della supervisione scenica e tecnica di Walter Pulpito e Vincenzo Di Pierro e della partecipazione degli attori Giorgio Consoli, Andrea Dellai, Ermelinda Nasuto, Chiara Petillo e Fabio Zullino. Il primo giorno possibile sta a significare il primo giorno possibile sia per noi teatranti di poter ritornare al rito collettivo del teatro e di poterlo fare secondo le modalità nel rispetto delle normative anti-covid. Quindi lo spettacolo è una speciale performance audio guidata per lo spettatore che arriva a questa postazione sulla Rotonda del Lungomare, riceve un paio di cuffie e viene guidato da due voci guida degli attori a compiere insieme delle azioni, a compiere un rito collettivo. Questo è nato in un anno speciale, è stato scritto dai Kepler 452 e riadattato site specific da me, dagli attori e autori del collettivo Clessidra, proprio su Taranto perché Taranto ha rappresentato nel momento della pandemia un po' il paradigma di una città particolare, dell'Italia, nella quale la dicotomia tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro è sempre stata presente per via del disastro ambientale, della fabbrica, delle tematiche sociali a cui siamo purtroppo ai noi abituati a fronteggiare e a sentire. E' in questo modo appunto Taranto paradigma di questa situazione, nel momento della pandemia che cosa succede, quale può essere il futuro possibile, è un innesto tra la tempesta di Shakespeare e l'utopia di Tommaso Moro.